Questa sera andremo a vedere un po' cosa differenzia un leone da una iena, o meglio, un attore da uno spettatore, un protagonista o attivo a un passivo, che è quello che spesso mi senti dire quando parlo di successo, no? Quando le persone mi chiedono, Leonardo, ma come si fa a diventare una persona di successo? Come si fa a fare denaro? Come si fa a raggiungere obiettivi importanti o meno che possano essere? Come si fa? Molto semplice, bisogna passare da uno stato passivo a uno stato attivo. E credimi, tu sai che io difendo sempre l'Italia, tu sai che ho fatto dei bellissimi video, dico bellissimi perché i ragazzi del team sono bravissimi a fare video, ho fatto dei video bellissimi per l'Italia, proprio riguardo anche la storia dell'Italia, però in Italia c'è un grosso limite mentale delle persone, che è quello che ci ha fatto retrocedere con l'industria, con la tecnologia, anche se vuoi con la ricchezza o con la nostra politica, che oggi in Europa purtroppo conta meno di zero. Ecco, se c'è un limite in questo è proprio l'ego. In Italia tutti amano i soldi, però odiano i ricchi. Ora arrivo al discorso del leone e delle iene, ma voglio spiegarti qual è il concetto e qual è il motivo per cui questa sera faccio questa puntata strana, un po' strana, ma utile, perché credo che la cosa più importante in questa nebulosa che si è alzata sotto Covid, non so se ci hai fatto caso che in alcune cose sono cambiate, adesso parliamo, ti spiego nel dettaglio, seguimi un attimino per il ragionamento. Quello che sta accadendo con questa nebulosa chiamata Covid o tutto quello che c'è stato montato sopra, ha creato una destabilizzazione generale anche del sistema, anche della comunicazione, anche di tutto quello che c'è stato come passaggio politico, difficoltà politiche e economiche. E in tutto questo, se tu vai a vedere chi fondamentalmente ci ha guadagnato, riguardo gli italiani proprio, nessuno. Anzi, la frustrazione, il dolore, l'essere rinchiusi in casa, il perdere denaro, ha creato molti più attriti anche, cioè liti familiari, problemi a destra e a manca. E c'è stato anche un cambiamento di regime da parte proprio del regime stesso, o meglio, nelle informazioni che vengono divulgate da quelle classiche, quindi la televisione e tutte le comunicazioni mainstream, è successo che c'è stato un cambio veloce di comunicazione, cioè tutti hanno concentrato il focus sul Covid-19, ovviamente il tema del momento, la pandemia, epidemia, quello che sia. Però se ci hai fatto caso, c'è stata una restrizione, o meglio, si sono messi in campo dei soggetti che hanno iniziato a parlare di fake news, lo stesso Mediaset, Rai, Logicom, ha iniziato a fare delle censure, a me mi tolgono dei video, quindi rimossi da YouTube, da Facebook, tutte cose che non sono mai accadute in generale, almeno a me, quindi realmente oggi sta accadendo qualcosa di anormale. E infatti ti parlo di questo questa sera in merito a un discorso, anzi, a un discorso, a un evento che è accaduto ieri. Perché ieri una mia intervista fatta in maniera spontanea all'Iene, ovviamente è andata in onda con tre mesi di ritardo. E la cosa che mi fa un po' sorridere, e qui entro nel discorso Leone e Iene, è che fondamentalmente mi hanno dato del complottista, cosa che realmente non sono, non credo di essere, perché quando parli di complotto, di che parli? Cioè, cosa parli di complotto? Quando tu dici a una persona, quello è un complottista, pensi che quello è un complottista, perché? Cosa rappresenta il complottismo nell'immaginario collettivo? La parola proprio complotto ha una radice, ovviamente non italiana, americana, anzi, si racconta anche che fosse anche antecedente al momento in cui, nel periodo che hanno ucciso Kennedy, perché Kennedy stesso aveva parlato di complotto, ma non in termini di complotto proprio, ma di associazione a delinquere, cioè di un deep state che stava remando contro l'America e contro il mondo, ed è morto poco dopo. Ma questo è successo a tanti altri personaggi, anche in Italia. Lo stesso Falcone e Borsellino, gli stessi Falcone e Borsellino hanno iniziato a parlare di una cospirazione e un complotto e una collusione tra Stato e mafia e dopo poco sono stati uccisi. Quindi fondamentalmente molte persone scherzano con la parola complotto, ma dietro a tutti quelli che hanno, tra virgolette, sono stati etichettati come complottisti, realmente c'era dietro magari, ovviamente, qualcosa di molto più importante che il semplice pensarla in maniera diversa. Se vuoi, da Gesù a Galileo Galilei o tanti altri che hanno detto cose diverse da quelle che erano le informazioni di quel momento. Lo stesso Giordano Bruno che è stato bruciato vivo perché ha detto qualcosa contro la Chiesa. Allora, in tutti questi casi posso dire che io mi ritengo fortunato perché per fortuna oggi ti danno del complottista, ma non ti bruciano vivo, non ti fanno saltare in aria, almeno spero, rispetto a quello che succedeva fino a un po' d'anni fa. Quindi diciamo che oggi a noi che la pensiamo in maniera diversa ci dice un po' meglio. Quindi se qualcuno mi dice, se vuole associare la parola complotto a qualcuno che la pensa in maniera diversa, non mi offendo nemmeno, anzi sono contento. Infatti in tutte le interviste, ne abbiamo fatte più di 70, non ero tanto io il complottista, ma ho portato in trasmissione persone che la pensavano in maniera diversa, dandogli la possibilità di esprimere la loro parola e la loro idea, quello che realmente avrebbe dovuto fare una TV, quello che realmente dovrebbero fare le Iene. Cioè le Iene dovrebbero proprio mettersi in discussione e mettere in discussione tutto quello, quella che è la realtà e andarla a spacchettare per capire se è così come ci dicono. Cioè nel momento in cui in questa crisi da noi accade questo, in Germania accade altro, poi qualcuno dice che è successo quell'altro, è successo qui e loro non fanno nulla. Conte fa dei decreti, succedono delle cose con i decreti e non fa nulla. Tanti suicidi per questo, nessuno fa nulla. La protezione civile parla di 32 mila morti quando l'Istituto Superiore della Sanità non ne conta nemmeno mille e questo già sarebbe, cioè se uno ha un dubbio su sta roba qua e dice ma come cacchio è che lì sparano 32 mila morti e l'Istituto Superiore della Sanità nemmeno mille. Cioè non è essere complottisti ragazzi, è semplicemente guardare le cose con attenzione e dire oh ma perché c'è parte una circolare dal Ministero della Salute che vieta agli ospedali di fare l'autopsie mentre scoppia questa epidemia prima che uscisse fuori il discorso pandemia. Perché la pandemia viene dichiarata tale quando non c'erano i numeri per essere? Insomma tutte queste domande che mi sono fatto perché sono semplici domande che mi sono fatto andando poi a intervistare persone perché poi devo essere ripreso dalle iene come il complottista. Non mi sento, o se il complottista è colui che si fa delle domande in più allora sono fiero di esserlo e di essere nato in un'epoca un po' più sicura di 30 anni fa, 50 anni fa, 100, 500 e 1000 e forse anche 2000. Quindi oggi quando parlo di leoni e quando parlo di iene mi rendo conto sempre di più che l'Italia, e con questo ti collego il discorso dei ricchi e della ricchezza, che l'Italia è un paese dove le persone vorrebbero di più, dove le persone amano i soldi ma poi si scagliano contro chi si espone, chi ci mette la faccia. Io ritengo che, e queste ovviamente sono delle riflessioni e sono contento che poi le iene mi abbiano dato tanta attenzione vuol dire che comunque a qualcuno do fastidio, no? Perché di solito vengono prese le persone che iniziano ad essere scomode. Mi dispiace perché io stimo molto il lavoro delle iene cioè ritengo, ho visto delle puntate molto interessanti nel passato non guardo la tv da un po' e vedere come hanno montato quel video, quell'intervista un po' mi fa pensare perché un complottista non ha bisogno di essere un po' tagliato e montato strano con la musichetta ironica o paragonato a un terrapiattista io non ho mai neanche immaginato che la terra è piatta perché si fa di tutta un'erba un fascio? Perché vengo paragonato a chi parla di torri gemelle chi parla di UFO, chi parla di chemioterapia perché non c'entro niente io io semplicemente sto facendo un'indagine o comunque sto facendo del giornalismo per andare a sopperire quella mancanza che nel mercato c'è di libera informazione e allora ovviamente mi sposta nulla questo video intervista anzi vi ringrazio che mi hanno dedicato del tempo per carità però dico non c'era bisogno di tagliare le risposte io ho visto ovviamente c'ero io all'intervista quindi so cosa ho detto, cosa ho risposto parlare alla fine quando io facevo le domande comunque al Gaston Zama del tipo cosa pensi tu allora in questo momento lui mi risponde io mi fido delle istituzioni anch'io ovviamente do piena fiducia alle istituzioni però dall'altra parte continuo a guardare continuo a guardare perché se io sono una partita IVA e per anni studi di settore no 3.000, no 5.000 paghi le tasse tutti gli anni, tutti i mesi e poi devi fare una caccia al tesoro per prenderti 600 euro io certo che mi fido delle istituzioni amo l'Italia, amo questo paese però un pochino mi faccio girare le palle un pochino cerco di capire che cosa sta succedendo dove sono dati tutti quei soldi nell'Inps e questo è il fatto che un po' mi dispiace io vorrei collaborare con le Iene non vorrei essere utilizzato per fargli fare un po' più di audience ecco perché un pochino ci rimango male ho deciso di dedicare questa diretta non per me, per la mia figura perché a me sposta nulla a me che fanno vedere che ho realizzato, che ho fatto che prendo 20.000 euro l'ora di consulenza e allora qual è il problema? non c'è nulla di male a farsi pagare anzi è bene se qualcuno ha voglia di pagarti perché vuol dire che riconosce in te un valore perché chi ha voglia di andare a mangiare un ristorante che si spende più di un altro è perché riconosce in quel ristorante un valore non c'è nulla di male il male c'è quando tu prometti un qualcosa che non mantieni cioè quando tu gli dici a una persona ti prometto che mettendo questa pomata miracolosa guarisce il dolore e poi il dolore non guarisce mentre se la pomata funziona sei contento di spendere anche 10, 20, 30, 50 euro e qui ci allacciamo a tutto il discorso delle medicine a tutta l'informazione che stiamo facendo su ciò che di solito non viene fatta sulla vitamina C e su quello che si può fare con l'ozono terapia e non capisco cosa ci sia di male e non capisco cosa ci sia di male a fare un po' di esami un po' di analisi dei vaccini io non ho mai detto di essere Novax quindi perché sono stato associato? semplicemente quando intervisto il dottor Montanari che mi dice guarda Leonardo abbiamo fatto dei test abbiamo visto che c'è dentro questo c'è dentro quest'altro essere immuni a quest'altro non è possibile io mi fido di uno specialista perché poi non è l'unico ce ne sono tanti che ne parlano quindi come si dice a Roma se tuona da qualche parte piove quindi io fondamentalmente sono contento di poter fare questa diretta e spiegare quello che penso sono un po' meno contento perché un programma bello cioè un po' pensavo più libero di altri come la Iene per me poteva e potrebbe utilizzare quel tempo per dare valore alle persone cioè per svegliare le persone mentre ritengo che la mia intervista abbia solo creato un po' più di confusione e mi ha fatto un po' di pubblicità fondamentalmente lo ringrazio anche veramente lo ringrazio dall'altra parte però che informazione abbiamo dato che la terra è piatta che i vaccini fanno bene e fanno male che qualcuno dice che la Merkel è figlia di Hitler ma chi cazzo io manco la sapevo sta roba e che c'entra col mio servizio capisci? allora quando tu fai di tutta un'erba a un fascio butti lì in mezzo e fai caos cioè questa è una delle strategie proprio per disorientare l'opinione pubblica o per fare in modo che le persone perdano credibilità in qualcuno o in qualcosa cioè l'obiettivo ovviamente ieri è stato questo far vedere che io avevo dei video con mille visualizzazioni che poi sono diventati due milioni perché parlo del covid ma io con le visualizzazioni non ho mai guadagnato nulla e le migliaia di persone che ho messo in sala ce le ho mettevo prima del covid anche perché col covid ho dovuto fermare tutti gli eventi quindi fondamentalmente neanche ha una struttura su cui poggia la teoria di ieri quindi a che scopo avrei? che scopo avrei di fare delle dirette impiegare tutte le sere dove fondamentalmente i soldi che abbiamo chiesto li abbiamo chiesti per mandarli alla ricerca perché abbiamo mandati per esempio al dottor Montanari io mi sono messo sempre nel ruolo del giornalista perché? perché oggi non trovo un giornalista cacchio poi magari ci sarà ma non lo vedo io che fa un lavoro di ricerca un lavoro di informazione io vedo molta più disinformazione che informazione vedo quello che stanno facendo gli altri paesi con il lockdown che hanno fatto vedo le informazioni la stessa Iene hanno raccontato una cosa diversa rispetto a quella che poi cioè hanno detto nel mio servizio riguardo la Germania il lockdown e alcune cose che sono state fatte qua hanno mi hanno messo come voglio dire mi hanno dato del complottista che per loro è uguale ciarlatano insieme a Trump Luc Montagnier Montanari e qualche altro personaggio porca miseria se Luc Montagnier un premio Nobel che nel 2008 ha isolato e riconosciuto l'AIDS voglio dire e tante altre cose che non so se sai su che cosa sta lavorando riguardo proprio l'informazione elettromagnetica dell'acqua io conosco i lavori di Montagnier da 15 anni perché sono stato amico di Emilio del Giudice sono amico di Alberto Tedeschi tutti i scienziati io mi sono sempre informato oltre la medicina tradizionale perché perché mi piace mi sono sempre fatto qualche domanda in più e in questo momento in un momento come questo di difficoltà quelle trasmissioni che hai visto in tv senza fare nomi dove continuamente vedevi gente intubata dove tutti volevano chiudere tutto dove dovevamo stare a casa dove era giusto che l'OMS mandasse i militari a prendere persone a casa ecco in questa pandemia celebrale io mi sono portato più di 50 ospiti in trasmissione per fargli delle domande per capire quelli che possono essere i reali rimedi per una pandemia per un'epidemia per il discorso anche medicina e non medicina per il discorso economico lavorativo ecco tutte queste cose per portare delle soluzioni prima l'informazione e poi le soluzioni il fatto di aver fatto il fatto di aver fatto un gioco di parole perdonami il fatto di aver fatto una crescita nella mia vita partendo dalle case popolari avendo raggiunto degli obiettivi questo ti fa proprio capire che io non sono una persona che si metta a chiacchierare cioè il complottista inteso comunicato nel mainstream è quel cazzaro come si dice a Roma che non ha nulla da fare e inventa teorie o cerca teorie terra piatta alieni e tante altre cose che io cioè proprio non avrai mai sentito dalla mia bocca o nelle mie riflessioni io ti parlo semplicemente di una cosa che ognuno ed è vero e lo penso seriamente che ognuno può nella propria vita creare un successo non significa essere miliardario successo significa essere in grado di porsi degli obiettivi e raggiungere gli obiettivi e io ne sono la prova ed è questo che vado ad insegnare ok e in più l'ho già fatto fare a tantissime persone che oggi sono ancora intorno a me stiamo creando delle scuole stiamo facendo tante cose e compresa quella di informare partendo da zero come giornalista mi sono messo a disposizione per fare questo io non voglio il grazie da parte delle Iene per carità però vorrei che fosse riconosciuto in generale dalle persone l'intento dell'uomo non chi sei come ti chiami quello che hai ma l'intento qual è stato l'intento di questa intervista far passare come ridicoli complottisti a che scopo perché disinformano perfetto allora se i complottisti disinformano ma ci può stare perché ci sta gente che sta fuori sono d'accordo con chi spara teorie allucinanti per esempio io non credo che la terra sia piatta per dire non credo questo però lascio la possibilità se qualcuno si fa una diretta e dice la terra per me è piatta ma perché cazzo mi frega ok allora se c'è qualcuno che crea disinformazione però dall'altra parte voglio capire chi è che fa informazione io voglio sapere chi è che fa informazione chi è che fa informazione tutti i telegiornali e i giornali che portano le informazioni prese dalla protezione civile riguardo ai morti i quali loro stessi dichiarano alla fine di ogni conferenza stampa che quelli non sono morti di coronavirus ma sono morti che avevano anche il coronavirus ci hanno messo dentro i morti di tutti di tutti i generi di tutti i tipi allora quella è l'informazione di cui mi devo fidare oppure mi devo fidare dell'informazione modello zingaretti che tutti gli over 65 si devono vaccinare e poi dove sono state date 200.000 dosi di vaccini anti-influenzali quindi parliamo di Brescia Bergamo e tutto quel triangolo lì c'è stato il record di morti di persone anziane anche questo è un caso come dicevo nell'intervista io non credo al caso cioè ci può essere una coincidenza ma anche in aula giudiziale quando ci sono uno due tre indizi il giudice dice questa è una prova ragazzi e allora tre regioni le più potenti si fermano e allora qual è il problema non vogliamo credere che questo virus è stato creato e modificato il laboratorio tanto che cosa sposta che cosa cambia andiamo sulle soluzioni io ho parlato di quello in quella diretta perché era già più di un mese che ero in possesso di informazioni ma lo stesso Grillo girava a dicembre con la mascherina ma nessuno ne dice nulla perché non fanno un servizio su questo perché non fanno un servizio su questo perché non fanno un servizio su quello sugli incontri di Maio con Bill Gates perché ma non perché uno vuole fare il compottista per avere un rendiconto di quello che accade veramente perché nessuno parla dei brevetti di Bill Gates perché nessuno parla dei finanziamenti dell'OMS perché nessuno parla che vengono finanziate le aziende che devono controllare dai controllati quindi è un vero conflitto di interessi perché nessuno parla che la Banca d'Italia che dovrebbe essere italiana non è italiana il 6% appartiene all'Inps e all'INA il resto è di banche private come cazzo fa ad essere una roba che dovrebbe essere statale di privati non solo di privati perché dici sai di investitori di italiani che controllano no di banche cioè la Banca d'Italia dovrebbe controllare se stessa perché dentro Banca d'Italia ci sta maggiori chi sono intesa Unicredit quindi tu quando entri in una banca Unicredit dovresti essere tutelato perché perché l'organo che va a vigilare Unicredit è la Banca d'Italia da chi è posseduta la Banca d'Italia soprattutto da Unicredit ma che cazzo c'è ragazzi ma nessuno ce le dice queste robe qua ma perché il telegiornale non ce le dice non ce le dice perché non ci raccontano tutto quello che è stato fatto in Italia da 40 anni a questa parte di tutte le svendite perché non ci raccontano come mai nel 2008 sono saliti gli spread come mai non ci raccontano perché nel 2011 sono saliti gli spread le scalate che sono state fatte alle varie banche i fallimenti Popolare di Bari Montepaschi di Siena perché non ce le raccontano perché non entriamo nell'informazione questa informazione perché oggi non ci stanno parlando di tutti i suicidi che ci stanno perché non ci stanno facendo vedere veramente la difficoltà di alcune persone di alcuni imprenditori perché non ci fanno vedere sui telegiornali tutti i ristoratori che sono stati multati dalla Dicos a Milano in una manifestazione che non era una manifestazione perché era veramente a regola d'arte con mascherine due metri di distanza perché sono stati tutti multati che cosa hanno fatto allora io vorrei delle risposte a queste domande se io ovviamente non posso intervistare personaggi che possono dare delle teorie eventuali teorie o risposte io vorrei queste risposte qua sono tutte tutte casualità vogliamo accettare ancora questo schifo vogliamo ancora stare qui ad avere la difficoltà vogliamo ancora farci prendere in giro per tutti i soldi promessi e mai presi che sia dal cittadino dal professionista dall'imprenditore e guarda che è successo ma basta guardare gli altri paesi ci sono paesi che hanno fatto anche peggio questo discorso pandemico mondiale ragazzi è un accordo è una roba mondiale non è solo italiana vero però gli altri hanno pagato meno le spese di oggi guarda pensi che sia una cosa un qualcosa che non esiste cioè vogliamo credere al fatto che hanno a casalità il 5G gli interessi diciamo tra la Cina e l'America che non ci siano dei conflitti vogliamo credere che è tutto ok perfetto ma io posso credere anche a Babbo Natale se vogliamo ma che motivo ho oggi che sono grande posso raccontare una fiaba a mio figlio ma senza dubbio però oggi se tutto va bene e sono felice racconto la fiaba racconto anche che Babbo Natale esiste ma quando ci sono famiglie che non arrivano a fine mese quando c'è gente che muore non sa perché c'è gente che sta male non sa perché in un certo momento se i medici alcuni non voglio dire tutti se alcuni medici non sanno fare i medici e fanno morire persone perché le intubano invece di fare un'autopsia e capire che quella è una tromboembolia polmonare allora in un certo momento mi faccio girare e le scatole e intervisto altri medici che invece dicono attenzione come disse anni fa già Montanari quando faceva una ricerca proprio sulle sulle nanopatologie perché stiamo avendo delle nuove malattie per colpa dell'inquinamento per colpa di altri sistemi che non sto qui a dire però tutto quello che sto facendo lo sto facendo per ricerca di verità per me perché mi interessa per me per la mia famiglia ma anche per te e voglio ringraziare tutte le persone che fino ad oggi hanno condiviso le mie dirette voglio ringraziare tutte le persone che hanno voglia di conoscere e ci stanno mettendo la faccia o comunque stanno facendo delle azioni questo significa essere leoni e qui arriva la differenza tra chi è un leone e chi è una iena che cos'è una iena la iena è quella sempre pronta a cibarsi di carcasse di animali feriti o cacciati da altri e che magari emette proprio quello sghignazzo questa è la iena ridens e la differenza tra una iena che appunto si ciba di carcasse o di animali feriti in branco sempre andando a prendere il più debole rispetto al leone che cosa fa il leone il leone rischia per sé il leone caccia si diventa re della foresta non perché sia la grignera perché ciò che determina la forza di un essere umano non è il suo cognome non è il suo portafoglio non è nulla di tutto questo è semplicemente come si comporta oggi quello che voglio dirti è ciò che ti differenzia che ti differenzierà da una persona da un'altra persona probabilmente tra un perdente e un vincente non è quello che già hai realizzato non è quello che già hai perché io sono stato un perdente e probabilmente sono stato una iena fino all'età di 18 19 anni poi un forte dolore mi ha fatto capire che ero veramente io ringrazio Dio di avermi creato delle difficoltà perché ogni volta grazie a delle crisi grazie a delle difficoltà ho avuto l'intelligenza o forse l'umiltà di capire che il problema fossi io e non gli altri cosa che oggi vi dicevo in Italia non è facile fare molto spesso mi rendo conto che ci sono persone che commentano anzi ti direi neanche molto spesso perché se andiamo a vedere la se tu vai sul video della diretta se vuoi te la faccio trovare nei link se tu vai a vedere l'intervista delle Iene ti renderai conto che gli stessi followers l'80% di loro condannano loro e premiano me anche non conoscendomi dicendo no io non conosco Nardo Leone ma avete fatto un servizio ridicolo per le musichine che avete messo per il montaggio per il tema lo sanno tutti che comunque non è tutto chiaro non sono parole mie sono commenti che stanno lì e tutti quei commenti cancellati quindi come mi vedi non sono arrabbiato ovviamente ti prendo ti prendo le parti cioè sto prendendo le parti anche a te perché se perdo io cioè se io che cerco costantemente insieme a tante altre persone di fare ricerca se perdo credibilità perché mi danno del complottista perdi anche tu fondamentalmente perché questo lavoro lo sto facendo anche per te perché se facciamo ricerca e raccogliamo fondi per montanari contro la leucemia o tante altre cose brutte che accadono e patologie che oggi ci sono questa ricerca è anche per te in maniera indiretta e se sono qui a scoprire che la vitamina C ti può salvare o ti può farsi bene è anche per te o così l'ozono o così l'ozonoterapia o così tante altre cose quando abbiamo fatto tante azioni con l'avvocato polacco contro le multe che facevano anche in maniera ingiusta e l'abbiamo fatto in maniera gratuita l'ho fatto per te abbiamo messo a disposizione uno studio legale per risolvere magari ecco multe ingiuste e l'ho fatto per te per chi l'ho fatto non è socio mio polacco non abbiamo fatto nulla anzi con polacco abbiamo creato poi un'associazione imprenditori uniti per le persone quindi tutto questo deve essere volto a farti riflettere ancora di più ovviamente se sei qui capisci il mio pensiero e mi segui ovviamente siamo allineati ma te lo ripeto e sono qui a spiegartelo anche perché magari ti sei perso qualche diretta o non hai visto quella delle Iene o magari sei qui perché hai visto la diretta dell'intervista delle Iene per me è importante fare informazione mettendoci la faccia così sei un leone è importante fare business mettendoci l'impegno mettendoci la faccia mentre le Iene lasciamole ridere le Iene lasciamole nutrirsi delle carcasse e degli animali feriti io sono qui ad aiutare gli animali feriti perché perché so mi sto sostituendo allo Stato io mi sto sostituendo allo Stato e chi sono nessuno sono un libero cittadino che se vedo una persona in difficoltà la aiuto se trovo un'associazione come Salva Mamme che hanno deciso di aiutare quelle persone che non sono aiutate dallo Stato e che dovrebbero essere le prime ad essere aiutate quindi le donne vittime di violenza e le donne sole con figli le sto aiutando io con azioni che non ti sto a dire perché non devo farmi pubblicità però ho deciso di aiutarle e questo riesce a farlo solo se tu riesci a crescere come persona allora riesci ad aiutare anche gli altri sto aiutando anche poveri indistintamente cioè anche dandogli da mangiare con una fondazione che ho fatto io che si chiama Fratelli di Cuore e non ne parlo mai perché non mi interessa farmi pubblicità però visto che oggi sono stato chiamato in causa mi è stato dato tra virgolette il complottista o diciamo ciarlatano allora voglio mettere a posto un po' le cose ed è questo per te che lo faccio ovviamente per me ma come ti ho detto se tutelo la mia immagine tutelo la tua perché se condividi la mia diretta se ascolti le mie parole è importante che tu sappia è importante che tu conosca la verità la verità che c'è dietro un personaggio un personaggio che per carità ho sbagliato tanto ne ho fatti tanti tanti di errori ho fatto incazzare mio padre poi ho fatto incazzare i miei amici ho fatto danni in zona sicuramente ho fallito ho fallito una volta e protestato tre volte ne ho fatti di casino ne ho fatti probabilmente di errori e ancora ne faccio ma la differenza sta che io mi sono sempre assunto le mie responsabilità ci metto la faccia ci metto l'impegno ci metto i soldi ci metto tutto quello che posso e dove però gli altri non arrivano io non devo chiedere il permesso e non devo starci a pensare più di tanto quando vedo che qualcuno non aiuta un signore anziano ad attraversare la strada anche se vado di corsa mi fermo all'aiuto e questo oggi sono in grado di farlo perché sono un po' più tranquillo rispetto a quando avevo 18 anni io capisco tutte quelle persone che non pensano agli altri pensano a raccogliere i 500 euro a metterseli in tasca perché quei 500 euro forse credono che gli possono cambiare la vita oggi se anche trovassi un portafoglio che cade a quello davanti a me con 5000 euro io gli do la pacca sulla spalla e glieli ridò perché probabilmente quei 5000 sono i risparmi di un mese di una vita non lo so a me cambierebbero poco a lui potrebbero cambiargli la vita e purtroppo il mondo in questo momento e l'Italia non è popolata da queste persone ci sono tante iene tante iene ed è il motivo per cui ti dico sempre uniamoci al di là dell'associazione imprenditori uniti che sto creando e che aiuterà anche i liberi cittadini ma uniamoci proprio a livello mentale di informazioni facciamo in modo che possiamo unirci sempre di più questa sera alle 9 e mezza ancora una volta ti dimostrerò come possiamo sostituirci allo Stato ti metto un link per partecipare a un webinar importante perché anche questa sera presento anche di promuovere non perché ci sono noti economisti dentro manager importanti anche di bank non per questo non per farmi grande di collaborare con una grande azienda ovvero la Cassa Nazionale Complementare no ho deciso di collaborare e di promuovere questa causa perché ritengo che questo possa realmente ridistribuire ricchezza questo dovrebbe fare lo Stato andare ad aiutare le persone in difficoltà in difficoltà si intende economica perché se tu ci pensi un imprenditore che sta bene paga solo paga solo come un lavoratore dalla busta paga gli tolgono il 40 il 50% della busta via tutta la vita a pagare tutta la vita a pagare però perché in teoria ci prendono questi soldi perché in un momento di difficoltà o per la malattia o per la pensione o per l'invalidità o per qualsiasi cosa in teoria l'Inps e lo Stato ti dovrebbe aiutare adesso col cazzo che ti aiutano guarda nel momento più difficile in cui in Italia è in ginocchio ma chi ha aiutato lo Stato lo Stato ha aiutato le banche ancora una volta decreto di liquidità 400 miliardi ma a chi sei andato in banca hai chiesto i soldi in banca hai visto quali sono hai visto qual è il rebus per prendere i soldi io lo so perché sono in mezzo a tanti imprenditori che mi chiedono aiuto lo so quello che hanno fatto e che stanno facendo allora visto che conosco questa è la mia materia allora dico che l'informazione qui non c'è perché i giornali non ne hanno parlato non hanno detto che i 25 mila euro se hai 20 mila euro di finanziamento ti vengono stornati cioè ti scalano i 20 e ti danno 5 non solo che la banca da che ti aveva prestato i soldi a te con la tua firma si chiama prestito chirografario sostituisce la garanzia mettendo garanzia dello Stato questo sai cosa significa significa per la banca essersi salvata vuol dire che tutti gli italiani possono andare in default ma oggi loro riprendono i soldi perché perché gli li dà lo Stato e lo Stato dove li prende i soldi dove li prende i soldi lo Stato se i cittadini non pagano li prende dagli altri cittadini quindi comunque lo Stato cioè quello che è sembrato il massimo sforzo di Qualtieri di Conte è nulla 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 l'hanno capito anche loro fatto sta che oggi sembra vogliano dare un fondo perduto a qualcuno vediamo che altro rebus si inventano allora ed è per questo che ho creato questo appuntamento dove mi metto a fare il giornalista e questo è il motivo per cui ho parlato con economisti e ho avuto la fortuna di entrare in un progetto quindi di poter aderire e promuovere un progetto come Cassa Nazionale Complementare perché? perché non serve lo Stato per dare i soldi alle persone non serve lo Stato per mandare forte le aziende quindi chi ha già deciso chi già era nel campo per produrre utili per sé e per i propri dipendenti e quindi se vuoi capire di che cosa sto parlando in maniera attiva iniziare a vedere per poi agire insieme clicchi sul link ti prenoti per il webinar io finirò questa diretta e inizierò questo webinar alle nove e mezza ma al di là di questo quindi per chiudere la nostra chiacchierata e mi dispiace non poterti parlare mi leggerò un po' di commenti ti chiedo anche questa sera di condividere anche se non abbiamo fatto alla ricerca della verità ma abbiamo puntualizzato tutta la ricerca sulla verità che abbiamo fatto in questi più di 70 giorni quindi leggerò i tuoi commenti mi dispiace non poterti parlare o essere in un'aula dove magari qualcuno ad alzata di mano avrebbe potuto esprimere la propria idea ed è questo che provo io in questo momento rispetto ai mass media rispetto al mainstream cioè non posso esternare la mia idea non posso intervistare le persone non posso fare in modo che si amplifichi in maniera organica più di tanto questo messaggio loro dicono che siamo cresciuti senza dubbio ma siamo cresciuti perché abbiamo fatto un lavoro in due anni eccezionale con l'ufficio marketing se ci pensi fondamentalmente tutto nasce dall'unione delle persone anche il successo della tua azienda o nella tua vita o la tua famiglia nasce quel successo dall'incontro con tua moglie ecco io attraverso più di 70 puntate che ho fatto in questo periodo e ringrazio anche in maniera prendo il lato positivo di questo covid che mi ha permesso di conoscere delle persone brillanti io voglio portare alla conoscenza ovviamente e far emergere delle informazioni e portare anche all'incontro di alcune persone probabilmente nelle mie interviste avrai conosciuto dei personaggi che non conoscevi avrai scoperto l'efficacia di una cosa rispetto all'altra avrai visto la medaglia su tutte e due le facce e avrai capito quanto realmente giornalisti e Stato non abbiano fatto il loro dovere in questo momento di difficoltà anzi ti dirò di più io da imprenditore ti dico che come tutela come assistenza e come aiuti alle aziende io in 22 anni di imprenditoria non ne ho mai ricevuti anzi quando hanno potuto hanno messo il bastone tra le ruote di tanti cambiamenti che hanno fatto adesso vedrai cosa faranno con i contanti vedrai cosa faranno con i vaccini con i microchip che non è complottismo ragazzi è una roba che si sa guarda Zingaretti che Campania sta facendo per rendere obbligatorio il vaccino antinfluenzale ma è una roba proprio illogica contro la costituzione capisci qui non si tratta di essere dice o complottisti qui si tratta di voler essere liberi quando si utilizzano strategie del genere si va a confermare ancora di più quello che dico io che siamo in un regime e se non dici quello che dice il mainstream una volta ovviamente era peggio ti bruciavano vivo però adesso o ti censurano o ti ridicolizzano volutamente per far perdere potere al tuo messaggio prendendo uno che dice attenzione che lo Stato non sta facendo quello che deve fare complottista terapiattista 11 settembre e che ne so alieni per esempio oppure quell'altro che mi hanno messo a fianco oppure Merkel la figlia a dire ma chi cazzo ci aveva pensato un esempio di questo ovviamente estrema è quello di Gesù prima è stato deriso poi è stato condannato e poi è stato pregato osannato e ringraziato e questo è capitato e capiterà purtroppo a tante persone ma adesso nel momento presente si può fare la differenza almeno per te io non ho bisogno di essere ringraziato non mi interessa nemmeno mi interessa per te che tu possa essere sempre libero libero di poter ascoltare me poi vai a sentire il TG1 poi vai a sentire Canale 5 poi vai a sentire qualcun altro lascia sempre la sedia libera nella tua testa per far sì che tu possa crearti la tua realtà la tua verità io questo professo ed è importante io sono contento di poter essere qui adesso a raccontarti questi miei pensieri perché ieri sera sono andato a dormire non più di tanto turbato ma preoccupato io non sono andato a letto turbato dici sai mi hanno voluto rendere ridicolo ma cazzo mi frega a me non è questo che mi sposta ma fondamentalmente sono andato a letto preoccupato perché mi sono tanto impegnato in questi ultimi due anni soprattutto per dare alle persone ok roba pratica per far soldi per creare tutte le cose quello che sai che faccio e poi in questi ultimi due mesi mi sono veramente tanto impegnato io mi auguro che tu abbia capito e carpito questo ho pagato comunque persone per farle lavorare in questo periodo per ricercare informazioni per mettere insieme gli incontri i meeting oltre le dirette abbiamo fatto tante altre cose per portarti veramente informazioni di prima qualità considera che Montanari è stato diffidato insieme a me perché siamo io sono stato l'unico che gli ha permesso di portare il suo messaggio a più di 3 milioni di persone io sono stato l'unico in 20 anni lui dice gli ultimi 10 anni però poi una volta mi ha detto 15 dunque stanno facendo stavano facendo ricerca di denaro per comprare il microscopio elettronico dopo che Grillo gliel'ha levato storia anche lì non ti sto a dire documentati su Montanari loro hanno fatto raccolta fondi per 15 anni non sono riusciti a comprare il microscopio elettronico io grazie a te e a tutti quelli che comunque mi seguono siamo riusciti in 15 giorni ragazzi e tra un po' di giorni verrà consegnato a comprare il microscopio elettronico nel totale sono stati raccolti quasi 400 mila euro tra l'altro ti apro la parentesi così lo sai l'ultima raccolta fondi da 120 mila euro fatta su Go4Me stiamo litigando per prendere quei cazzo di soldi da lì 4.100 di commissioni su un'opera di bene tasse sulla donazione sulla raccolta fondi e in più sono 20 giorni che questi soldi sono bloccati cioè una roba pazzesca quindi in che mondo stiamo vivendo cerchiamo di capirlo e di scoprirlo di sicuro al 90% non farò un'altra raccolta fondi con loro ma proprio creerò forse una piattaforma mia perché non esista il mondo che tu prendi dei soldi ti fai pagare tantissimo e poi se io ti dico dammi i soldi non me li dai cioè non proprio stiamo litigando veramente abbiamo fatto scrivere anche dall'avvocato se non ero non si sa una volta dice che manca un documento poi ne manca un altro una roba folle 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 una cosa folle detto questo io continuerò anzi continueremo sempre a ricercare la verità mi auguro che tu sia il mio a fianco perché quello che dobbiamo scegliere oggi e che ovviamente io ho già scelto ma non posso scegliere per te è se essere una iena o se essere un leone perché non bisogna nascere leoni uno può nascere un leone e comportarsi come una iena e viceversa quindi realmente ciò che ci contraddistingue come dico sempre sono le azioni io nasco da una famiglia non voglio dire povera perché è brutto dire però modesta perché mio padre mi ha dato veramente tanto sotto tutti i profili e lo ringrazio vedrà sicuramente questa diretta grazie papà e grazie mamma anche se vi siete separati molto presto non sono riuscito mai con voi a vivere la famiglia vi ringrazio vi ringrazio di avermi anche sopportato perché sono stato sempre abbastanza vivace come parlo così che dico quello che penso da piccolo era uguale quindi un rompicoglioni senza a pedali come si dice senza fine però li ringrazio quindi ti ringrazio ma questo ti fa capire che sono partito dal basso dalle case popolari da difficoltà mamma se n'è andata che avevo 8 anni figlio unico a 15 anni iniziare a lavorare non mi sono diplomato subito mi sono dovuto diplomare da grande perché ho dovuto iniziare a lavorare a 18 anni 3 lavori per non arrivare a fine mese poi iniziare a fare una professione l'agente immobiliare riscuotere comunque un successo economico discreto aprire il primo negozio fallendo imparando su quello e facendo tante altre esperienze questo per dirti che non sono nato leone non sono nato leone assolutamente ci si comporta da leone oggi questa diretta che sto facendo è una diretta da leone cioè mettere la faccia e rispondere a quello che gli altri hanno detto ma senza rabbia leone non significa attaccare mordere non c'è ego in questa roba qua siamo tutti fratelli siamo tutti uniti io non sono arrabbiato con le linee anzi ripeto ancora una volta le ringrazio perché comunque a loro modo fanno il loro lavoro io comunque li rispetto ovviamente cosa dico apro parentesi non condivido la metodologia cioè alcune informazioni potrebbero essere date da loro che non danno cioè non vanno proprio a ricercare riguardo quello che ti ho detto quello che non sta facendo lo Stato gli errori della sanità abbiamo fatto morire persone che potevano non far morire questo ragazzi è sotto gli occhi di tutti ci fidiamo delle istituzioni hanno fatto morire persone a persone che con una tromboembolia polmonare lo intubi lo uccidi gli hanno fatto prendere degli antivirali o farmaci AIDS che non servivano contro AIDS che in quella circostanza non davano valore ma andavano ad abbassare le difese immunitarie però ovviamente non voglio colpolizzare i medici perché tanti si sono impegnati altri sono stati un po' superficiali ma soprattutto le istituzioni non hanno permesso quello che sarebbe stato giusto fare ovvero subito tante tante autopsie o magari non tante paura di contagio fanno fare 10 con tutte le protezioni del caso perché si può fare invece no spariamo pandemie e chiudiamo tutta l'Italia mandiamo a picco tante aziende tante persone non gli diamo gli aiuti e poi dobbiamo dire che ci fidiamo delle istituzioni io mi fido delle persone che dicono la verità io mi fido di chi ci mette la faccia io mi fido di chi si impegna e io mi fido di chi ha un intento nel bene per il bene di se stesso e degli altri allora mi fido al di là della carica pubblica al di là del cognome al di là del portafoglio facciamo così così capiamo che non c'è da discriminare chi fa il politico o chi fa il pittore per me viaggiano sullo stesso livello ciò che li contraddistingue come dicevo sono le azioni e tu adesso ancora una volta con l'esperienza delle Iene e di tutto quello che stai vedendo puoi scegliere ancora di più chi essere chi diventare cosa fare se in queste domande c'è anche una domanda a livello economico e materiale cioè come posso realizzare quello che cerco da tanto la stabilità l'abbondanza la serenità un po' quel circolo economico virtuoso che c'era negli anni 80 senza quella prima repubblica che era un po' marcia dall'alto ma parliamo di inflazione soldi in circolo allora questa sera alle nove e mezza nel webinar si presenta Cassa Nazionale Complementare un progetto importante con persone importanti ma importanti perché? perché nella vita si sono distinte per l'impegno quando uno ti ho detto diventa grande o lo vogliamo chiamare leone è una persona semplicemente che si è impegnata e ci ha messo la faccia mi hanno addirittura preso in giro hanno preso un pezzo sulle Iene e ti concludo questa diretta con questo dove hanno preso il pezzetto in cui intervisto Massimo Mazzucco tra cui voglio dire mi piace mi sembra un'anima molto buona al di là delle sue esperienze delle sue ricerche mi piace come persona sai quando l'empatia mi sembra un buono una persona buona e quindi lo rispetto ancora più in più ci mette la faccia anche lui e tanto impegno per fare quello che fa tra l'altro lo saluto se mai vedrà questa diretta lui io si usa anche per cortesia in Italia negli altri paesi in America no per esempio in Italia dottore quando incontri come carica e lui dice io non sono dottore scherzosamente e io gli ho risposto io chiamo dottore la persona che secondo me si è impegnata tanto di diventare non un laureato accademico ma uno specialista in qualcosa quindi per me lui realmente nelle sue ricerche che ha fatto si può prefissare come dottore si può chiamare come dottore poi ovviamente è stata una battuta una stupidaggine che non c'era nemmeno bisogno di mettere cioè dare importanza a una banalità del genere che cazzo c'entra con compottismo cioè qui è solo l'intento la volontà di screditare e ridicolizzare una persona che poi neanche ci riesce perché a che serve addirittura mi hanno mandato dei messaggi alcuni collaboratori scrivendo Leonardo ma che hai pagato le iene per farti pubblicità ti hanno fatto un mega spottone no non ho pagato nessuno per fare questo figura pensa le persone anche lì mettono la malizia no perché perché comunque io li ringrazio mi hanno dato 30 minuti del loro tempo su Italia 1 grazie detto questo andiamo avanti scegli sempre se essere passivo o essere attivo in questo caso come esempio palese se ami i soldi ama anche i ricchi ci saranno dei ricchi che si sono arricchiti in maniera disonesta ma posso assicurarti che ce ne sono tanti altri che hanno dato valore e hanno creato valore per se stessi detto questo scegli sempre di essere con i leoni e un leone non c'è bisogno di avere soldi fortuna o famiglie dietro o ecco che ne so delle targhe attaccate dietro la schiena ciò che ti rappresenterà sarà l'intento che metti nelle cose e le azioni che fai per questo penso di poter diventare nella vita l'uomo più ricco del mondo ma rimanere quello che sono una persona semplice che parla con tutti gioca con tutti scherza con tutti perché tutte le persone per me sono uguali sono allo stesso livello siamo tutti fratelli ma che ci andiamo a qualificare con le nostre azioni quindi tu puoi prendere la persona più importante del mondo che tanti magari gli leccano il culo però se per me si comporta di merda e fa male a se stesso ma soprattutto agli altri allora a quel punto per me è una persona di merda e non lo voglio nemmeno guardare non può stare vicino a me è chiaro ma io so che anche nel tuo cuore c'è questa verità bisogna solo saperla riconoscere e guardare oltre le apparenze oggi sto osservando lo sto guardando sto guardando Bill Gates e dico minchia ogni volta che parlo con qualcuno che non è in tv sento il nome di Bill Gates che sia per i vaccini che sia per l'OMS che sia per tutto il discorso del microchip andiamo a vedere qual è la verità non lo so qual è ma di sicuro quello che ho sentito fino ad oggi non mi è piaciuto quindi puoi essere l'uomo più ricco del mondo puoi avere successo ma questo non è successo per me se è vero quello che si dice perché ovviamente non lo conosco personalmente e non ho toccato con mano le cose dico per me non è quello il successo il successo a cui ambisco io e a cui vorrei tu ambissi è altro successo fare del bene a se stessi e farlo anche agli altri l'imprenditore è vero il 4.0 è colui che crea per sé e dà agli altri ti ringrazio di essere arrivato fino a qui mi auguro che tu possa avere ancora una volta condiviso questa diretta se sei sulla pagina facebook per avere le notifiche prima che rimuovono eventuali video dirette metti like se sei su youtube anche qui iscriviti al canale per ricevere la notifica e soprattutto per poterti vedere un video prima che lo rimuovano ti sono grato e ci vediamo domani sera per la ricerca della verità sempre alle 21 sempre sulla pagina Leonardo Leone e per tutti quelli che veramente vogliono qualcosa in più di pratico e partecipare a un progetto che rivoluzionerà in meglio l'Italia parola di noti economisti ci vediamo alle 9.30 nel webinar trovi il link per registrarti è gratuito a dopo ciao